Prozac, la pillola della felicità, il saggio che ho scritto nella collana dell'uomo qualunque per tab edizioni, è un saggio sulla depressione con alcune interviste a professionisti, neurosichiatri, psichiatri, neurologi, psicologi e anche ad una importante studiosa di farmacologia. Vi aspetto con le vostre mail, ne abbiamo ricevute tante in questi giorni, cerco soprattutto di rispondere il più in fretta possibile e nella maniera più esauriente scrivendo a infochiocciolatabedizioni.it Grazie e a buona lettura e presto rivederci magari di persona nelle varie librerie per fare un po' di promozione di questo libro. Grazie.